Il concetto di Smart City e di sicurezza SFT urbana è una cosa molto nelle corde di Ania e Sicurezza che rappresenta i produttori, i distributori e i sistemi integrato installatori in questo comparto. Noi abbiamo contezza di quelli che sono i punti di attenzione, che sono la mappatura dei sistemi a campo, l'interoperabilità dei medesimi, quali sono i valori dei dati e come vengono interpretati. Chiaramente, come ribadivo anche prima, è importante anche che tutta la filiera sia educata su tutto il processo e sia allineata su tutto il processo, dai progettisti ai prescrittori fino alle sale operative. Quindi, chiaramente, noi siamo molto interessati a essere a un tavolo e a capire, a dare il nostro contributo su quelle che sono le best practices e non solo la bontà degli apparati, ma tutto quello che è il risultato dei dati che possono essere poi snocciolati e interpretati nel sistema. Quindi siamo interessati perché questo avvenga nella maniera più corretta, anche per l'utilizzo dei dati medesimi, per il futuro della sicurezza.